Download on stage La sfida su RIN A colpi di microfono Oh forse noi ce la possiamo fare Abbiamo altri due nuovi ospiti Si chiamano Stefano e Emanuele Tra poco li ascolteremo Anzi li ascolterete ovviamente Sarà il loro momento davanti ai microfoni di RIN Vi dico subito che qualcuno Uno dei due ha già esperienze radiofoniche L'altro forse no invece No, fa delle cose e basta Vabbè sono poi adesso Tutte e due Ah tutte e due mi dice Valeria Io ti riprenderei Valeria Ti farei un filmino Sui tuoi versi No non nuda Ma i versi che fai Quando mi vuoi far capire le cose Dovresti vederti A parte questo Seate pronti ovviamente A mandare le vostre dediche A scrivere le vostre richieste Come già stanno arrivando Vi ricordo ancora i numeri Gli sms al 320 20 22 151 Invece per telefonare 02 891 55 339 Ci siamo dovremo essere